Il rapporto tra arti differenti, questo era un po' il leitmotiv della ventottesima edizione il Roma Jazz Festival, in questo caso il rapporto strettissimo era con la parola, con la voce di Amiri Baraka. Andando a ritroso negli anni Sessanta le esperienze di questi musicisti si intrecciano tra di loro, il New York Art Quartet era formato da Roswell Rudd, poi c'era un Mirford Griffith, c'era John Cicay che successivamente poi aveva già lavorato con Archie Shepp nel New York Contemporary Five, c'era Lewis Worrell, c'era anche Amiri Baraka, realizzarono un album memorabile per l'Est e poi un altro paio di album successivamente. Si tratta di un incontro, anche se in realtà un incontro che era stato preceduto già qualche tempo fa da una serie di concerti che erano poi culminati in un album. Shepp con la sua voce tenorina ha inventato un po' un modo di suonare il sassofono Archie Shepp e che da un lato teneva conto della grande tradizione, soprattutto quella di tenoristi come Ben Webster e dall'altra invece si affrancava completamente da linguaggi conosciuti e attraverso l'insegnamento di John Coltrane, di cui Shepp è stato un collaboratore negli anni Sessanta, attraverso il suo insegnamento si apriva verso orizzonti nuovi, particolarmente presente nella mutica di Shepp sempre una fortissima consapevolezza sociale, civile e politica. Roswell Rudd, muticista capace di, un po' come Steve Lacy, di muoversi su generi differenti, da partire dal Dixieland fino al Free più spinto, Reggie Workman, contrabbassista potentissimo, straordinario, collaboratore anche lui di John Coltrane, Andrew Thrill, uno dei maestri della batteria degli anni Sessanta, uno di questi traghettatori appunto della batteria da funzione ritmico accompagnativa, una messa in gioco alla pari. Amiri Baraka, poeta laureato del jazz, come lo chiamano scherzosamente, ma non troppo, ma in realtà uno dei, non solo un grande intellettuale, il suo popolo del blues è uno dei testi fondamentali per chi voglia cercare di capirci qualcosa in questa mutica, qualcosa perché poi fondamentalmente non tutto è possibile capirlo. E da anni anzi tu ti chiedi cosa ci sia qua dietro. Questa è la cosa più bella del jazz ovviamente. E poeta, lui anche con una lunghissima storia alle spalle, con un grandissimo avvenire davanti, questo ci auguriamo tutti quanti. Si parte con Keep Your Heart Right di Roswell Rad, a cui va seguito ancora un altro brano di Roswell Rad, Acute Motelitis, e poi c'è questo Steam, un brano di H.C. Shepp, un brano particolarmente drammatico. È stato scritto da Shepp in seguito alla morte del cugino, il cugino intorno ai suoi 15 anni fu assassinato a Filadelfia. Shepp aveva più o meno la stessa età di suo cugino e questo fatto ovviamente gli è rimasto sempre molto molto impresso. Si va poi quindi su Ujama, Shepp, sentirete il suo vocione che annuncia questo brano. Ujama ne dà come traduzione la comunità che lavora in cooperazione, un brano che aveva scritto per la figlia più piccola. E quindi a quel punto entra in scena Amiri Baraka, che si produce in un blues parlato sulla base di Blue Monk, e poi dice, racconta, dice, io fin dagli anni Sessanta ero molto appassionato delle forme epigrammatiche giapponesi come l'haiku, e però a quel punto mi sono inventato un low ku. Fa un gioco di parole, haiku, quindi la prima sillaba di haiku, sfruttando l'assoluta somiglianza fonetica con high in inglese, alto, quindi come se haiku fosse q alto, e allora dice low ku, cioè il q basso, che è quello che possiamo fare noi. Uno dei suoi low ku più fulminanti, vale la pena di raccontarlo, lui stesso lo scorso anno lo raccontò in una conferenza stampa, recita così, se la memoria non mi inganna. If Elvis Presley is king, then who is James Brown? God, che tradotto significa, se Elvis Presley è re, ma allora James Brown chi è? Dio. Sottoscriviamo pienamente e totalmente questo low ku di Amiri Baraka, che particolarmente informa quella sera. Peraltro il concerto è stato applauditissimo, seguito da un pubblico enorme, alla fine Mario Champa, che è il direttore artistico del festival, ha anche premiato tutti quanti i musicisti, un'atmosfera che a quel punto è diventata estremamente festosa e calorosa. Dicevo appunto Amiri Baraka, quindi continua nello scherzo sul suo low ku, low ku, low ku, in spagnolo, e quindi riferimento immediatamente a un poco loco, brano di Bud Powell, con cui noi chiudiamo questa situazione. Registrato a Roma, all'auditorio, un parco della musica il 17 novembre dello scorso anno, Archie Shepp, Roswell Rudd, Reggie Walkman, Andrew Thrill, Amiri Baraka, un po' meno di un'ora, 56 minuti e noi ci sentiamo alla fine. Buon ascolto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti. 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 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ......